Non c'è nessun altro ashraya. Se hai un sentimento di ragabhakti, se c'è un desiderio per questo, questo è l'unico modo, di prendere il servizio di Svamini. Cosa è l'unico modo? 62. Svamini, questo è il versetto di Bhakti Rasamrita Sindhu via Shleviswana Chakravati Takrova. On the path of Ragha Nuga one should follow Krishna's infamite beloved associate. Yeah, path of Ragha Nuga. Raga means? Prem. Raga significa prema. Nessun rituale. Raga significa prema. Dobbiamo lasciare tutti i rituali. Dobbiamo lasciare tutti i rituali. Dovremo seguire gli associati intimi e i loro seguitori. Cosa vuoi? Come la mia Sanatani decide di diventare madre. Lei segue Madri Yasoda o no? Associazioni. L'associazione della madre. Anche gli amici si associano. E il Swamini Radhika è associato. Ci sono diversi sentieri. Uno è l'amore coniugale. L'altro è l'amore madre. L'altro è l'amore amico. Ma chi ti può dare questo? Lo devi fare per Krishna. Ed è possibile solamente prendendo il rifugio in Gurudeva e l'associazione della madre. E associandosi. Sempre rimane in loro servizio. Sempre in questo. 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 dobbiamo essere sempre assorti nel... Io lo sto facendo, sto facendo questo. Questa è devozione. Questo va fatto dal sadhaka rupa. Sadhaka rupa, physical body. dal corpo fisico. E siddharupa. Nell'identità spirituale. Nella tua svarupa. Nella forma spirituale. Nella forma spirituale. E anche in siddharupa. Nella forma eterna e perfetta del corpo spirituale. che si è adattato per rendere il tipo di servizio a Krishna, Sra. a Radha Krishna. No, no. Si è Krishna. Perché, Krishna, possono fare tre tipi di servizio. amico, madre e sanitario. Siete? Devi decidere. Non c'è nessun sentimento passivo. Questo è un sentimento attivo. Devozione. Devozione. Anche i sentimenti passivi ci sono. Gli alberi in Vrindavan sono in un sentimento passivo. Uddhav dice che vuole diventare un lato, lata, pata. Perché? Perché non può... Perché Uddhava non può fare quello che le gopi fanno per Krishna. Quindi vuole diventare passivo. Vuole vedere quello che sta succedendo. è un sentimento passivo e vuole solo guardare questo. Ha detto, io non voglio più andare via da Vrindavan e vivere in Vrindavan. perché non sono qualificato a fare quello che loro fanno. Non ho amore nel mio cuore. Ho troppo conoscenza. Ho troppo con l'amore. 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 Se il sentimento avranno. Quando c'è un relazione. A volte i sentimenti avranno. Come solo arriva quando un'amore. come una madre, il sentimento della madre. Quando ti accetterò come un figlio sentirò come una madre. Voglio prendere una relazione con Swamini per vedere come il sentimento coniugale voglio diventare la tua ombra, Swamini. L'ombra, lo sapete. L'ombra va sempre con la persona. Tu ti muovi e la tua ombra si muove con te. E' quella ombra che voglio diventare un'ombra di Swamini, Radha. E' quella è Radha Bhakti. Uno dovrebbe desiderare lentamente il sentimento, che è il sentimento speciale di amore di coloro che si associano a Krishna. a Braja, whom one aspires to follow. Questo dovremmo aspirare a seguire. Questa è la spiegazione di come ottenere questo tipo di sentimento. Seguiva. 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 Sadaka Rupena refers to Shilla Rupa Goswami. Understand? 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 You want to explain? I explain this. There are two names. One is Rupa Goswami. And Rupa Goswami is spiritual identity. It's Rupa Mangia. So what is important? Physical identity I have e non ho nessuna identità spirituale. Quindi il momento non è lì. Di cosa abbiamo bisogno? Ho bisogno di identificarmi con la mia forma spirituale e ho bisogno di nome di quello. Ho bisogno di identificarmi con la mia forma spirituale e anche con il nome della mia forma spirituale. Identificarsi con la forma e con il nome spirituale. Read again, slowly. Slow, you pass one small sentence. Sadaka Rupena si riferisce a Shri La Rupa Goswami. E Sida Rupena si riferisce a Rupa Manjari. Una persona due. Quando abbiamo la misericordia del nostro Guru Deva. Quando abbiamo la misericordia del nostro Guru Deva. di nuovo ho un nome e anche questa è una nascita e anche questa è una nascita quando sono nato e la terza nascita quando ho la misericordia della mia identità spirituale e quella è ancora un'altra nascita in questo modo la nostra vita spirituale si muove la terza nascita è quando ti dà la grazia della forma spirituale la svarupa quando ti viene rivelata la svarupa in quel momento lì è la terza nascita ho capito iniziazione è un processo finché non ti identifichi con il tuo vero sé con il tuo vero forma spirituale Maharaj Maharaj is right there iniziazione è un processo finché non mi identifico con la mia forma spirituale ma la forma spirituale è diversa per tutti ognuno ha la sua she is asking if we all have our own personal spiritual identity yes everybody has a personal identity tutti hanno una personale identità spirituale yes he is asking if this identity can be revealed by chanting he says we have to ask from gurudeva i have no idea but i'm talking of teaching of narayan non so stiamo parlando degli insegnamenti sto parlando degli insegnamenti di narayan i don't want to go in conflict non vogliono entrare i conflitti in the front there is a mention yeah but they don't say the contents go there so that you have to find yes really nice yes she is asking according to your teaching and lying how to get this java dharma java dharma if you read the java dharma it is mentioned that the person who is living in that when sanyasi went to the mayabadi sanyasi and 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 who is living there who is living there they by their association and by their association and who is living there is coming the person who has realized he can who is living there he can feel what so many wants to give who are living there who are living there radhika is giving radhika is giving through gurudeva identification of my spiritual identity he is asking what is actually in practical this spiritual identity he is asking in practical way what it is this spiritual identity the soul the soul is tatastashakti marginal when i will believe only soul then my nature is marginal if i want to fix my established one move i have to decide myself that soul is identified by this soul you see Jesus life he identify as a son then he see father if you identify like a mother you will see if you identify yourself lover then you will find where is the love when you go love you want to take that circle to land you want to be always there but you have to simply i not i understand he's asking he's asking he's asking if to find to find out actually if i have so much sadhana sakti damn it's possible why not i'm so much capable to do sadhana maybe five thousand one thousand years or five hundred years it's possible this this and sadhana the twenty thousand years of they pray in ramchandra time they become sadhana they come to the ok listen to me they practice they practice ten thousand years ten thousand years ramachandra to get associate with ramachandra to get with ramachandra then ramachandra says it's not possible when i will come 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 lila purushottam krishna and i will accept your sadhana and they become gopi if you are capable if you are able to do it it's possible but here also it says quote by shi chaitanya chaitamrita with one spiritual body revealed by the mercy of shi guru dice nella chaitanya chaitamrita can you read it again please this is page 31 in the middle with one spiritual body revealed by the mercy of shi guru in the middle in the middle somebody wants to do sadhana they want to become by their efforts but you see here is very clear but you see here is very clear the mercy of shi guru yeah you see the benefit you see the benefit so ramachandra time they cannot do 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 I am so much serving to you from long time, 20 years, 10 years, I am singing your glorification, I want to become close to you. They become gopi. So sakhi and gopi and mangiare, rupa mangiare, is mangiare. Mahaprabhu, as you said, don't want to become sakhi and gopis. Why? Because they have interest to go to Krishna, meet with Krishna. Manjari has no interest with them. They want to serve Radhika's Krishna. And they want to give subject to him. Here also is another on the same page. When by the grace of Guru and Gauranga, our greed sprouts and then fully blossoms, Our Shiksha or Diksha Guru may show us our spiritual body. We don't need to change Guru. We have to add It means here. Diksha, Shiksha. Teaching. Diksha and Shiksha. Insegnamenti. This is the name. I want to learn more about this. I want to add from Shiksha Guru. Go on. Now I want to try the process for you. Yeah, yeah, yeah. This is on page 11. You see. She is so fondant. She remembers that. By your mercy. Because you were telling me to do this. I had your mercy. You have to take that. And the mercy of Shrila Narayan, Maharaj. Diksha comes gradually, not in the moment. Understand? It's a process. It's not that I got it and started. We have to go through the chanting, the mantra. slowly, slowly, realization can come. But it's also possible somebody has Sukriti past previous that moment at the time of Diksha they realize everything. And sometimes it's a process to go on. Really? The process of receiving Diksha takes place over a long period of time. The process of receiving Diksha takes place for a long period of time. When like you say already, one has the advantage of past birth, samskara. When one has the advantage of past birth, samskara. One easily accepts Diksha. and the process is accomplished quickly. But without previous samskaras, the process is slow. Why slow? Because this is the life I start. There is no previous samskara. taking time. taking time. taking time. you say to you say you say you say you say you say you say Raganuga or you say Rassika. Rassika Rassika is Raganuga. Rassika one is philosopher. Badi, monoritual injunctions, bidir, raga è una cosa differente. E badi è una cosa differente. Vogliamo ascoltare tutti, è molto valore. Voglio ascoltare tutti, ascoltare tutti, ascoltare tutti. Ma se portate a Sanatani per ascoltarmi, lei non verrà mai. Perché questo non è una cosa sua. Questa è solo ascoltare la rasa. Questo è ascoltare. Quale è la mia rasa? Allora quello io ascolterò. E chi non è in quel rasa vorrà ascoltare tutto e parlare di tutto. Tutto è buono per loro. Non c'è nessuna differenza. Allora dovete decidere voi. Per voi. Raziiii drauf. Racc月 Novas. Sapltdi, il Saan. Sapltdi. Sassuri. Sassuri. Catt hinter il tuo sito. Ci sono molte associazioni, molte cose, ma cosa c'è il negozio? Il negozio è quello che io ho un obiettivo e voglio ascoltare. Entendete? Allora, una domanda. Come facciamo sapere qual è la raza che in ultimo momento potremmo ascoltare? Sì, sì. Come facciamo sapere qual è la raza? Come facciamo sapere qual è la raza? Come facciamo sapere qual è la raza? Lei è arrivata a questo. I am proud of her. La glorifico. Perché lei non ha nessun altro interesse in altre raza. Non è interessata della filosofia. Questo è amare. Right o no? Understand? What is Guru Krippato? Avete capito cos'è la misericordia del Guru? Però, per esempio, Gesù sentiva la relazione di essere il figlio, no? Ma nel raza di Krishna non c'è questa relazione. E se uno sente quella relazione lì dove l'ascolta, perché non c'è. Gesù ha questa raza di il figlio, ma in Krishna non c'è la raza di il figlio. In realtà c'è la raza del figlio. C'è la raza di il figlio. Ma quale raza vuoi? Ma quale raza vuoi? Mother and son raza is there. C'è la raza di madre e figlio. And if you want to make him father. Ma se lo vuoi far diventare un padre. And you want to become son. Then brush, there is no raza. Non c'è nessun raza. Abraja. Abraja. You have to go to Dwarada. This is not Raga Bhakti. E non è Raga Bhakti. So... Is a Bhakti... E' Bhakti... But... I don't want to say the truth. Non voglio dare dettagli a questo. Ma dovete comprendere. Ma può essere l'accettazione di un conto di cui è una scelta che fanno? Eh scusate. Può essere l'accettazione di un conto di cui è una scelta che fanno? Se è Gesù che l'ha accettato... Se è Gesù che l'ha accettato... Se è Gesù che l'ha accettato in generale. Quindi che è una cosa che tu accetti o che scegli. L'accettazione di un conto di cui non è una scelta che fanno io. Minguino deve leggermi inservati. Per le persone che chi si scelte... No... Il ascolo sostro tendo a messaggio. Il Che è giusto per non essere. Può essere? Il رasa è una scelta che valere. Il 마 Wes Forza è una scelta di te. Il Brandon è un soggetto profuno. E hai bisogno del Bajan per questo. Se hai bisogno della misericordia del guru per questo, allora in quel modo puoi comprendere. È un corso di impianto. Stiamo discutendo, questo è un corso di PhD. Stiamo seguendo un corso avanzato. Come l'università. E' come se fossi all'inizio, a scuola preparatoria. E' come se fossi all'inizio, a scuola preparatoria. Ma non chiedere. Questo sarà meglio per te. E' meglio. It seems that sometimes you can have more than one grass. She doesn't know about the chivas, but like Narada, he has more than one home. He is not a brajya moon. Again you go out from brajya. Brajya moon is brajya moon. Only there are three, Radhya, Madhya Yasoda, and the family. Out of this you go to brajya moon. Narayana worship. And the family. And the family. And the family. And the family. Why are you afraid? I don't know. Why are you afraid? They don't know. You can't wait. I don't know. Ma... ...you are answering my question. She feels like she... You didn't answer her question. What? This one about Narada. That he has... Narada? Is in Panchatakshara. Narada in Panchatakshara. As a Srivats. Come Srivatsa. What she is doing, he is doing. There are five in Panchatakshara. Three are the main. Mahaprabhu. Gajadva. And Nitenanda. And Mahavishnu and Narada. He is praying. What? Without your mercy, nothing is possible. To whom do you pray? To Radha Tatva. If you deviate from this goal, if you deviate from this goal, then not quite difficult. Long way back. Then initiation will be the process till I don't identify myself with the real life. In this goal, I don't identify myself I don't identify myself with the real life. I don't identify myself Can you say that if someone has Madhuriya Raja or Maghari Vava actually he has also she has also Sarkya Raja is it possible sometimes ination No, one rasa. One pizza. You ask from Salanda? Leslie that you cump. Quanti rasa vivete? Madhuriya rasa? Sì, è una cosa differente. Madhuriya rasa, tutti i rasa. Non in Bacchaglia rasa. Madhuriya rasa? Uno è un amico. Due amanti possono comportarsi come amici. E quando viene il tempo di mangiare, in Madhuriya rasa, si comporta come una madre. Se non mangiare questo, mangiare questo, è vero per te. 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 Siamo entrati nella classe di Diksha. ma il nostro Diksha non è completo. Siamo in classe adesso. Significa che siamo nel processo. o nel processo di apprendimento. O nel processo di apprendimento. Possono Dio e il Guru far piovere la loro grazia su di noi. So that we can receive full Diksha. in modo tale che noi possiamo ricevere Diksha completo. Divya Ghyana. Divya Ghyana. Avete visto anche ieri? Guru Bandana. Divya Ghyana è la patata. Questo è Divya Ghyana. Cosa è Divya Ghyana? per identifichare la mia saru con la mia Siddha Dea. Questo è Divya. Ah. Divya Ghyana ha realizzato la conoscenza trascendentale realizzata. Divya Ghyana ha realizzato la conoscenza trascendentale realizzata. di idea che Siddha D ela danya e Siddha Darsyana e Dirdi ad Arshan. Видya Darsyana. Chachyudan di AligEN-Ghyana佐re Ghyanaędzie Chachyudan. Cachyudan. Io ero cieco sa tabbuoso. Io non vedo le cose l'ideale perokino di offenses drone ma nella tua misericordia mi faceлю vedere. la visione divina e la conoscenza divina. Senza misericordia non è possibile. Non è possibile senza misericordia e senza misericordia. Non è possibile senza misericordia e senza misericordia. Viva Darsana significa visione spirituale. Divya Jnana significa Divya Darsana. Il Divya Jnana implica il Divya Darsana. Come possiamo vedere con Vijaya Kumar e Brajana. Nel Jaiva Dharma. Hanno visto il Signore al tempo della loro iniziazione di Diksha. E sono svenuti in un attimo. Dopodiché hanno preso tutte le istruzioni necessarie a Navadvip da Sri Raghunath das Babaji. Quindi con questo ordine sono andati a Puri. Dove hanno conosciuto il discepolo Divya Krishna Pandita. Shri Gopal Guru Goswami per Shiksha maggiori, per istruzioni ulteriori. Gopal Guru Goswami è un Vaisnava Raghunuga. e nella sua forma spirituale come una Gopi è uno delle otto principali Sakhi. avendo realizzato che Brajana era in Sakhiya Bhava e Vijaya Kumar era in Gopi o Manjari Bhava gli ha rivelato la loro identità spirituale. Era stato così misericordioso che li ha chiamati tutti e due allo stesso momento. e gli ha detto tu sei un amico pastorello di Krishna e tu sei una servitrice di Shri Mati Radhika. Ha dato a entrambi loro le 18 sillabe del Gopal Mantra. Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya Bhava sono tutti all'interno del Gopal Mantra che nutre e supporta tutti i rasa di ogni Jiva. e il nostro amico Tutto l'intra. Do not have a rest mind. Do not. Wait. Tutto l'intra. Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Valabaya Swahav This mantra, two parts. First part, Bhatsali Rasa and Sakya Rasa. And the last part, Madhuri Rasa. Go on. But there is one thing to consider. Krishna is the deity for one in Dasya or Sakya Rasa. For that devotee, The name Gopijana Valabaya is the adjective describing Krishna qualities. It qualifies the first name. And then Tamal Krishna Goswami asks what about Krishnaya? And Tamal Krishna Goswami asks what about Krishnaya? And Srila Gurudev says, Krishnaya, who is Krishna? A devotee in Dasya Rasa considers He is my master and I am his servant. Such a devotee thinks that Krishna is Gopijana Valabaya only in a general way. This type of devotee thinks that Krishna is Gopijana Valabaya only in a general way. Krishna is the prominent name for those in Sakya Rasa as well. In this mantra such devotees dress on the names Krishna and Govinda. However, those who have Manjaribha focus on Gopijana Valabaya which makes the other two words, Krishnaya and Govinda. Adjectives for Gopijana Valabaya. Adjectives for Gopijana Valabaya. Now he is asking what about those in Vatsaya Rasa? And Tamal Krishna Maharaj chiede, e per coloro che sono in Vatsaya Rasa? Srila Gurudev says, those in Vatsaya Rasa follow the same principle. Srila Gurudev risponde, coloro che sono in Vatsaya Rasa seguono lo stesso principio. They focus on Krishna? Si concentrano su Krishna? They focus on Krishna as the deity with whom they are related. Si relazionano a Krishna come la divinità, si mettono l'attenzione su Krishna come la divinità con cui sono relazionati. Everyone with Vatsaya above knows in an ordinary way that the gopis love Krishna but they have no idea. They have an idea of that love but no experience. idea and experience are not the same. What is idea? like you are getting idea and experience are not the same. Like Sanatari is experiencing in Vatsaya Rasa. So that experience is the most important than idea. How much I give in my experience Svarupa and Svarupa Siddhi. Svarupa means idea and Siddhi means perfection in that practice. Yes. Svarupa is existing, this is one idea and I start practicing and I am in the position to fix this is a perfection. This is a practice, not idea. So reality, who is fixed they can help us. who is in idea, if I will listen to them, that way we cannot, they will not help to fix it. because they have no experience to fix it. Understand? To those who have no idea of their own Rasa, to those who have no idea of their own Rasa. to those who have no idea of their own Rasa, to those who have no idea of their own Rasa. Maharaj is writing, they need association of Rasa. our Vaishnavraya, association is important. Sangha is important. One person goes through the mountain and sits alone and he is chanting ten years without association. What will happen? And with the association it will work in maybe six months. Sangha is important. Sangha is important. What is the meaning of Shastriya Sadhu Sangha? That is a Shastriya. Sadhu Sangha Is one, is my creed and what I want to know, that is Sadhu Sangha. I want to know A and I am sitting in Sadhu Sangha B. I will know B, A not. I want to know B with Sadhu Sangha. Shastriya Sadhu Sangha. Shastriya Sadhu Sangha. Shastriya. Shastriya. Shastriya Senonga. Shastriya. This is present. This is the sameörper. Shastriya Sangha. Shastriya Sangha Striya Sangha. Нов Vorsitz. Shastriya Sangha. Shastriya Sangha. e io andavo con i Durghā Devotei, niente non funziona. Come io voglio A, io andavo con B. Io voglio Rāgā Bhakti e io andavo con i Vādī Bhakti Association. L'associazione con i Vādī Bhakti. Then what will happen? You are putting one drop in ten kilo of milk, one drop of lemon. The milk form will change. La forma del latte cambierà. Understand, brother? He's asking, there are so if there are so many other sannyasi that may be in Bhairi Bhakti what can we do, not listen to them? I never say like this no, no, ma hai detto questo no, he's asking no, 100% we have to listen 100% we have to listen but what is the need then? that you have to decide yourself everything I will decide then what you will do you have to use your mind my dear I want everyone has to use his mind if you were then it gives you the meaning of the dietary mantra and so he's giving some indication of your avas what he gives you meaning is it true and then you develop it by your bhakti right maybe seven other convertits I'm sure they will explain the meaning and so he explained seven has a different different consciousness one is here one is here one is here so all will understand as per their understanding e ognuno di loro capirà a seconda del suo livello e svilupperanno a seconda della loro associazione uno vuole sapere e l'altro sta facendo uno vuole sapere e l'altro sta facendo uno sta imparando uno sta facendo e uno sta imparando Quindi dipende, uno ascolta, uno sta cercando di capire e uno è nella pratica. Chi sta facendo, vorrà ascoltare. Si ha detto che è stata la pratica, allora ha bisogno di studiare, che sono una pratica che si può vivere. Sono tre stadi. Vedete gli stadi, cercate di comprendere in quale stadi siete. Qualcuno può avere dei dubbi, ascolterà in modo tale da poter chiarire i dubbi. E un altro non ha dubbi. Cosa farà? Non ha nessun tipo di dubbio, sono finiti i suoi dubbi. Allora andrà nell'ira. Ascolterà i passatempi. Non avrà bisogno di sviluppare la conoscenza. Vuole soltanto fluire nei passatempi. Chi non è soddisfatto completamente vorrà sapere di più. Un, due persone, si innamorano. Sono in una relazione. sessore di questo, e non ho dubbi. Sessi. E un altro vuole leggere, a proposito di questo. E un altro vuole leggere, ha scritto di questa persona e vuole leggere. E un altro vuole leggere, a proposito di questo. Perché ho una relazione, io so, e non ho dubbi, ho completi dettagli di questo, e se non ho nessuna relazione, ci saranno sempre dubbi e dovrò sempre cercare di chiarirli. In quel modo non riuscirò mai ad andare all'interno dei passatempi, perché non ho chiarito i dubbi che ho. Non nel livello della mente, non nel livello dell'arte. È sul piano della mente, non sul piano del cuore. Ma se non ho abbastanza di questo desiderio, devo pregare, devo pregare Ishimakirari, perché mi sta chiedendo se uno non ha abbastanza di questo desiderio, devo pregare, cantare, pregare, e aspettare per quella misericordia. Maharana Maharaj ha scritto, se hai desiderio, quella è la tua qualifica. e se hai desiderio, lo vuoi prendere. Se non hai soldi, non hai soldi, pregare da altri. Prendi da altri, pregare, pregare. Prendi da altri, pregare, 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 pregare. pregare, 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 pregare. chiedere, mendicare, chiedere in prestito o rubare e nemusinare, chiedere in prestito o direttamente rubare la bakhti non può essere rubata, loba può rubare, solo questa bramosia può rubare non bakhti, e tu vedi ci sono molti devoti qui, ma chi sta qui o fuori, o stando come te lì fuori ad ascoltare hanno questo desiderio, questa bramosia, altri non hanno questa bramosia, cosa vuoi fare? la bramosia ti fa stare seduto e ascoltare cosa? ora legge prende la mente no grazie 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 è giusto, scusate, quando io sto nella pratica in Bajan sto più sul cuore e è più potente, come dicevano, se invece analizzo, vedo i testi, è sempre potente, però sto qui sulla parte internazionale. He's saying, when I'm doing Bajan, it's on the level of the heart, so it's stronger. When I read, it's on the level of my mind, so it can be not so strong. Actually, you are right, eh? Reading is one thing and listening is one thing. If you say what is the best, se vuoi cercare di capire qual è la cosa migliore, se vuoi cercare di capire qual è la cosa migliore, leggere o ascoltare, ascoltare è la cosa migliore. So, Navada Bhakti start from Shravanam, listening. So, talking like me is not very good, but you are very good because you will get the benefit. When, when these eyes will start drinking, and ears will start drinking, ears will start drinking, and eyes will start talking. Write down this. Ears will start drinking, and ears will start drinking, and eyes will start talking. Ok, ok. Ok, ok. And that's fine. So, there are so many videos, and lectures, of you, on your, um, whole face, and also, just a normal piece. This is so nice, I can, when I can sit in the garden, and I think when it's very hot, and I feel like, there's a lot of things. And you are talking, and, very nice to , so, it's very easy nowadays compared to ten or twenty years ago to have really the perfect acid. Very good, that all the devotees to people, that, that all the devotees, you can say. You can still sit here as well to anywhere, as well as 20 or 30 years ago as you could. Yes. Io anche non so se erano queste cose. Loro sono fortunati. Non so se fanno giusto o sbagliato, ma la loro misericordia non so se fanno giusto o sbagliato, ma la loro misericordia non so se fanno giusto o sbagliato, ma la loro misericordia non so se fanno giusto. Non ho nessuna qualifica. È soltanto una misericordia delle grandi amole. La nostra vita cambia grazie a loro. Do you want to read something? Yes, if you like. Case number five. La Gurev Naraymaraj says, If I desire a rasgulla, but I think I have no money in my pocket to purchase it, so I cannot have it. Non ho soldi in tasca, quindi non lo posso prendere, non lo posso avere. That means I have no real greed for it. Significa che non ho realmente desiderio della scuola. A person with greed considers Una persona che ha questo forte desiderio pensa Somehow or other, by hook or by crook In un modo o nell'altro A bag, borrow or steal Chiedere, mendicare, prendere in prestito o rubare Questo tipo di persona non pensa a quale qualificazione o disqualifica può avere. Nessun tipo di qualifica, questa è la vera qualifica. Quale tipo di qualificazione abbiamo bisogno? Non sappiamo qual è la nostra forma spirituale, questa è una disqualifica. Fino a quanto dovrò stare in questa situazione di non capire qual è la mia forma. Quindi, preoccuparsi delle disqualifiche non ci permetterà mai di essere qualificati. Se l'ha capito, praticarlo. Se l'ha capito, non lo accorgere. Se non lo accorgere, non lo accorgere. Non considera se può o non può essere in grado di ottenere questa bhakti. Semplicemente pensa, io devo averlo. Questo è il vero desiderio. Comprendete? Il suo desiderio deve essere avere più potere dalla forma, dalla qualità dei passatempi di Krishna. In questo modo si può essere considerato di avere del vero desiderio. Quindi se non c'è desiderio, leggete i passatempi. Come si chiama? Hmm? Venughita, Gopi Gita, Uddhava, Sundays. Tutto il decimo canto del Bhagavad Gita. All they will give you, all pass time. There is nothing more out of that. And slowly you will develop this script. Then, select the books of Rashi Gavad, who is realized, living in the world, six years, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami. 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 you have to see who translates this. Is he said the push or not? si vivra o si scrive solo per ottenere il business potrebbe essere in un mondo si è realizzato loro vi daranno le realizzazioni Un sadaka che ha questo tipo di desiderio potrà pensare Ho sentito dai Rasika Vaishnava come Lalita, Vishaka, Chitra, Rupa Manjari e altri associati servono Krishna E io voglio servirli come loro Non smettono di giudicare se hanno o no la qualifica per ottenere questi Samjatiya Bhava Samjatiya Bhava O l'identica del quale si aspira Identica del quale si aspira Non tutto io ascolto Non tutto io ascolto Non tutto io ascolto Non tutto io ascolto Facciata di fare il quale si fa E facciata di varietà E facciata di varietà Io ne ho visto in Italia Ci sono molti varietà Io vedo ogni giorno 10 varietà E se mischiate Si diventate Si diventa di varietà Quindi cosa facciamo Facciamo sempre di varietà Quindi non c'è a stai obbava Sempre cominciamo a piacere tutto Sempre cominciamo a piacere tutto Sempre cominciamo a parlare e piacere tutto Sempre cominciamo a parlare e piacere tutto E ci parliamo sempre di questo e di quello Ci piace questo e quello Vedi, mio fratello, mio fratello, mio fratello disse Dove devo ascoltare tutti quanti Sì, tutti ascoltano Ma devi sapere i risultati di questo Ma devi sapere i risultati di questo Io ascoltare tutti quanti Dottor, io ho una questione Sì, cosa? What if I'm not I can listen to everybody To everyone when I'm looking for Then I found it So I just Ok, this is what If I haven't found it yet I have to listen to everybody And then I will find But when I found it Then I will stay there Right Ho detto Quando tu stai cercando È anche normale che ascolti tutti quanti Poi arriva che tu hai trovato Quello che ti piace Quello che stavi cercando E allora ti fermi In questo modo si possono ascoltare tutti quanti E tu Però quando ho trovato uno si ferma Ascoltare non è una cosa cattiva And that's all Listening is not bad Ascoltare non è una cosa cattiva Because you are going And you come in the crossing And you are asking to everyone How to go This place And you are in crossing You have to listen everybody But if you If you catch one road to go And you ask please I want to go No, no, you turn and go this way Then you will reach there You go there And you say No, no, you come wrong way You are before right And you say No, no, ma eri sulla strada giusta Devi ritornare indietro That's true I'm getting past the road To turn Yes Yes So Those Who are right to be listening to Are those who can Develop our budget Perché devo arrivare al mio scopo, quindi sì, sono quelli che vanno ascoltati. E dopo quello, il momento che non ho tempo per ascoltare, sono così fisso nel servizio. Arriva il momento in cui non ho più tempo per ascoltare perché sono fisso completamente nella sua lunga. Sì. Vedete? Non ho tempo. Quando non c'è più tempo per ascoltare. Non ho tempo per ascoltare. Questa è la bellezza dell'insegnare, arrivare in un posto per imparare. La polvere di questi Vaisnava, che aiuterà ad incrementare il vostro orato. Se vuoi diventare rassica, avete bisogno della polvere dei rassica. Allora in questo modo il rassica si manifesta all'interno, arriverà all'interno di voi. Allora in questo modo il rassica. Grazie a tutti. La deviazione dal fatto che c'è il nostro obiettivo là in fondo. Non abbiamo compreso che Rasa è la cosa più alta. Il risultato della filosofia è Rasa. E Rasa arriva soltanto con Sambandana. 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 Ma non esternare, quando ti fai vedere che sei bravo. Ma mostrare, farsi vedere. Ma quelli che sono in Bhajan nascondono loro stessi. Perché non sono interessati a essere riconosciuti in modo pubblico. Rasa arriva soltanto con Sambandana. Ma la vibrazione divina è differente. senza che si facciano riconoscere, senza che si facciano riconoscere, voi li riconoscerete perché c'è una vibrazione, quindi lo potete sentire. Potevo vedere che quando ero con Narayana Maraj, migliaia di vibrazioni. E tutto c'è, il grande ashram che vive in modo differente. sono altre vibrazioni. E' una vibrazione devozionale. Questo è lo spirito. Vedete? Dovete realizzarlo e dovete sentirlo. Dovete realizzarlo e dovete sentirlo. Cosa c'è dentro questo? Cosa c'è dentro questo? C'è una visione divina. Cosa c'è dentro? Chiunque abbia il desiderio potrà migliorare quello. Questa è la misericordia di Città. e questa è la misericordia di città in amato. Ma senza rasa non puoi vibrare il rasa. La vibrazione non potrà mai diventare divina senza rasa. I filosofi non possono vibrare in questo modo. Ma una madre può vibrare invece. Non c'è nessun tipo di qualifica richiesta. La vibrazione d'amore così divina ti fa sentire in modo automatico. Non sono qui per insegnare ma sono qui per imparare da lui. Perché se lei viene a Brindavana non potrei vedere perché non potrà venire nella mia classe. Perché il rasa è diverso. e non ho nessun tipo di realizzazione in Barsaliarasa. ma non c'è nessun tipo di realizzazione. che lei vive in quel rasa. Sono come un bambino. Uno sta facendo e l'altro sta guardando. Noi, noi ne abbiamo bisogno. Quindi abbiamo bisogno di un rasa. Unko di un rasa può far sviluppare tutto quello della rasa. Perché andiamo a brindavana? Per prendere la polvere e mettere in piedi di spazio di Svamani che la mia vita cambi e che abbia il desiderio. Questa è la ragione per andare a brindavana. Perché siamo turisti facciamo solo il parikrama e poi andiamo via. Ma non siamo turisti. Siamo vivendo. Questo è il mio sadhana. Questo è l'obiettivo della nostra vita. È stato finito per prendere la piazza e la miseria devo prendere e avvolvere la misericordia per avere il desiderio per fare in modo di chiedere quando verrà il tempo in cui avrò questa misericordia per aver esistito. Non siamo turisti. e se vado come un turista non conosciamo la realtà di brindavana. Kono kono bhagyaman e alcune persone fortunate possono comprendere questa strada nascosta della dimensione. È nascosta. questa porta è molto grande per entrare dentro questa stanza ma altre stanze sono nascoste. Quindi la strada nascosta è nascosta. questa è brindavana. dovete associarvi con i rasika che potrebbero mostrare che questa è la strada per arrivare loro. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie I feel fortunate my mama is also here. C'è anche la mia mamma qui. 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 Grazie a tutti. Tutto è la presenza dei sentimenti, come sentite, come vivete, e come è la tua vita, in quale modo vivete, le tue mani sono liberi. Puoi fare altre cose, ma il tuo cuore e il tuo cuore sono fissi in una cosa sola, queste mani cominceranno a lavorare per questo. I piedi cammineranno per fare questo. I orecchi vorranno ascoltare. La bocca vorrà mangiare queste reminiscenze, questi occhi vorranno meditare su questo. Ancora più facilmente, è un processo facile, è un processo fisso. Nessuno saprà cosa stai facendo. Nessuno saprà cosa stai facendo. Tu sai cosa stai facendo e il tuo amante saprà cosa stai facendo. Quindi, domani c'è un programma per Andradas. Sisi. Ma se mi lasciate io... Sisi. Ma se mi lasciate io... Sisi. Sisi. Sici. Sisi. 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 Adesso. Mi piace molto l'autorealizzazione di autorealizzazione. Scemo questo. In ogni posto c'è una cosa. La autorealizzazione. Cos'è l'autorealizzazione? Cos'è l'autorealizzazione? La realizzazione del tuo seno, la tua vera forma. Allora faremo dei segnali per indicare dove, come i libri di Prabhupada. Così possiamo seguirli. Per continuare. Posso guardare. Come la Università, ora mettiamo i segni dei corsi per continuare poi a sapere come fare. Nitai, Nitai, all Nitai is doing. Sto facendo tutto Nitai. Siamo l'estrumento dell'Nitraico. Siamo l'estrumento dell'Nitraico. Alla sua grazia sta dicendo che stiamo ascoltando e che stiamo parlando, questa è la sua grazia. Siamo l'estrumento dell'Esprazione. Siamo l'estrumento dell'Esprazione. Un'istrumento di non fare in la vita, non cercare di trovare non-devotive cose in la vita. Questo dovete capire. Se volete capire, se volete capire, se volete capire. 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 Ma questa associazione può farlo. Se volete capire. Gerashta Asrami è importante, ma come si vede capire. Se volete capire. So Esto dovete capire. Meti alla forza. Vole un'estrumento, da si, En和guire un'estrumento di Brahmone? Alasprar financial. La persona abisura. I am God of you. See the example of Krishna Kirtan. See the example of Sunniti. My Poonri, my friend Poonri. Arati. Oh, my brother, Jasura Poonri, my God. If he know everything, after that, he will say, Poonri Ma, what do you say about that? He has to take say, but without telling Poonri Ma, no, okay. When they stay together, you see their actions, surprisingly. So intense, and both understanding and loving, it's a beautiful actions. Right or not? You see that Poonri Ma and the Sudha Nandam actions? Yes. Yes.